Sono già trascorse tre settimane dall'arrivo dei primi profughi nella città di Agropoli. Il cuore grande dei cittadini agropolesi, dei commercianti e di tutte le attività del posto non hanno fatto mancare il proprio contributo a queste persone, per lo più donne e molti bambini fuggiti dalla guerra. Ma oggi, a distanza di tempo, si presenta un'altra difficoltà, quella di ospitare temporaneamente sia a pranzo che a cena queste persone. Da qui l'appello di Oksana, che si occupa insieme alle tante donne ucraine che vivono in città da tempo e che si stanno occupando della raccolta dei beni di prima necessità, è rivolto ai ristoratori del centro o a chiunque volesse offrire un pasto caldo a pranzo o a cena a queste persone. Grazie, veramente grazie. Io vorrei dire che adesso teniamo un'altra emergenza, perché ci sono tanti feriti. Voi vedete tv e vedete che sta succedendo e abbiamo bisogno di tanti medicinali per primo soccorso, specialmente coperte della vita, barelle a cucchiaio, se qualche associazione può provvedere, perché non sappiamo dove prendere. E poi, come arrivati qua, parecchie famiglie, cioè mamme con bambini, nonni, per momento abbiamo ospitato qualche parente, qualche italiano ha dato casa, però il comune non è arrivato i fondi e non abbiamo pure per dare mangiare. Adesso tutta roba che portavano gli italiani per portare l'Ucraina, noi facciamo pacchi e diamo per mangiare loro. È partita una bella iniziativa da Francesco Di Lucio e Paladino, mamma, per dare mangiare al ristorante. Ieri hanno offerto il suo ristorante Bistrotte di Mare per dare pranzo. Era bellissimo perché tutti i bambini contenti, il signore di fronte è sceso, visto questa cosa, ha portato pure giocattoli per bambini. Oggi è chiamato Franco Carola, che vuole offrire a vecchio Saracino pranzo. Vediamo che man mano che riusciamo a fare questa iniziativa, può essere pure qualcuno che vuole donare, cioè pagare questo pranzo, però basta che c'entro, perché loro non hanno macchine, non possiamo spostare. E aspettiamo che il governo dà soldi per mantenere, perché arrivati sono tanti. Grazie. Quindi se c'è qualche ristoratore o qualche famiglia che vuole sponsorizzare, vuole offrire il pranzo o la cena a questi bambini e a queste donne, può contattare Oksana. Oksana, possiamo dare un riferimento telefonico? 33, 39, 39, 22, 22. Però io ho pure una idea, non so, giovedì forse devono fare riunione a comune. Io vorrei, se potevano pure dare una mensa, perché penso a scuole ci sono menze, perché il ristorante, voi piccoli, giustamente, una volta, due volte, però almeno una mensa che potevano pure che mamme, qualcuno cucinava là, non lo so. C'è una cosa che penso che si può fare. Noi vediamo, faccio questa proposta comune, vediamo se riusciamo a fare qualcosa.